In località Palmanova sarebbe possibile vedere lo spettro di un uomo triste, che vaga per i campi, dall'aspetto emasciato, così lo descrivono alcuni contadini della zona. Il fantasma sarebbe di un certo Giovanni, che perse la vita durante la Grande Guerra. A Tarcento c'è una villa che un tempo apparteneva a un uomo molto benestante. Questi però col passare del tempo pare che divenne pazzo e uccise la moglie con i rispettivi figli. E pare che nel giorno della ricorrenza dell'omicidio si sentano delle urla provenienti dalla stessa villa. C'è chi giura poi di aver visto lo stesso conte, nonché ex proprietario della casa, affacciarsi ancora ad oggi alla finestra della villa con un grande fucile da caccia.